sai quando è che io perdo il cappello da l'acqua quando tiro in su questo è lacciato lo tiro in su con più forte esatto invece in due o tre due vedere sto termometro se va bene o no in 18 gradi a questa serve per il sentiero questo mi servito in spagna con tutta la gente a piedi io bisogna che ti metta una zavorra di 20 kg a te poi andiamo a pari no 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 Grazie a tutti. 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 Ah no. Grazie a tutti. Yeah. Ah, lo voglio risalire un fiume un giorno. questo qui. a fare una foto da fare una foto da vedere su Facebook.